buongiorno benvenuti in questo nuovo tutorial dedicato a cgad e in questo video vi mostrerò una cosa molto importante è che quella legata relativa praticamente alla nuova gestione dei comandi infatti con la nuova versione 2024 è stata completamente rivisitata e riordinata quella che la lista dei comandi sono stati allineati tutti i comandi come quelli di autocad e possiamo avere una lista dei comandi dal menu visto comandi rapidi per cui da la possibilità di andare a visionare tutti quelli che tutti quelli che sono i comandi estesi e rapidi inoltre è possibile andare a richiamare il comando in modo diretto direttamente la riga di comando qui in basso quindi vediamo sono stati tutti allineati con i nuovi nomi sono stati aggiunti anche nuovi comandi come ad esempio la gestione di congela layer copia clip copia punto b insomma sono stati praticamente gestiti tutti i nuovi comandi e possono essere richiamati sia da riga di comando ovviamente che nel modo classico dal menu ribbon o dal menu classico